...e il libro di 13 mandati. Ricordiamo ai gentili passaggeri che per la vostra sicurezza è sicuramente vietato sporgersi dai finestrini e far entrare le corretti. Siete pregati di gettare i vostri rifiuti negli appositi contenitori per la rottamazione differenziata. La temperatura esterna è di 18 gradi centigradi, cielo parzialmente nuvoloso con possibili precipitazioni del governo. Nel vagone alla vostra sinistra è attivo un servizio bar e ristorazione e non è il solito magna magna. Alla vostra destra trovate alcune postazioni per accedere all'ambaladan e uno spazio bimbi riservato esclusivamente alle nuove generazioni. Gli iscritti a parlare sono invitati ad accomodarsi sulla panchina posizionata sul palco. Sarà nostra cura fare in modo che l'attesa sia breve. Ogni intervento può durare al massimo 5 minuti. I trasgressori saranno amichevolmente interrotti. Grazie per aver scelto la stazione Leopolda e buon viaggio. Prossima fermata, Italia. Grazie per aver scelto la stazione Leopolda e buon viaggio.